Senza domenica non possiamo vivere, dichiaravano a loro a Guzzino un gruppo di martiri nordafricani durante le persecuzioni di Diocleziano. E' quanto ricorda Papa Francesco nell'udienza generale per spiegare l'essenziale della fede e la celebrazione dell'Eucaristia. Inaugurando un nuovo ciclo di catechesi, il Papa punta lo sguardo sul cuore della Chiesa. Eucaristia, spiega Francesco, significa ringraziamento, ma in troppi tra i cristiani ignorano il più grande dono che Dio ha fatto agli uomini. Basta entrare in una chiesa durante la celebrazione di una messa. Ma tante volte noi andiamo lì, guardiamo le cose, chiacchieriamo fra noi, mentre il sacerdote celebra l'Eucaristia, ma noi non celebriamo vicino a lui, ma è il Signore. E se venisse il Presidente della Repubblica in calza del Papa, saremmo ancora distratti? Davanti al mistero dell'Eucaristia non regge nessuna obiezione. Eh padre, che le messe sono noiose. Ma cosa dice il Signore è noioso? No, no, la messa no, i preti. Ah, che si convertano i preti? Ma è il Signore che sta lì, eh? Capito? Non dimenticate. Occorre porsi delle domande vere, continua Francesco, su gesti e riti a volte compiuti meccanicamente, come il segno della croce. Voi avete visto come i bambini si fanno il segno della croce? Tu non sai cosa fanno se il segno della croce è un disegno, fanno così, ma imparare, insegnare i bambini a fare bene il segno della croce. E così incomincia la messa, così incomincia la vita, così incomincia la giornata. Un segno della redenzione di Cristo, ma non basta. Il Papa si dice rattristato per la selva di telefonini durante le celebrazioni liturgiche e invita tutti a riscoprire l'essenziale attraverso ciò che si tocca e si vede durante la celebrazione eucaristica.